Siamo con Massimo Fratelloni, attore pesarese che da domani giovedì 5 maggio arriva sui cinema un po' di tutta Italia con Le Vecchie Canaglie. Si tratta di una pellicola appunto come Genere Commedia che nello stesso momento è anche uno sfondo drammatico perché tratta appunto il tema del trattamento degli anziani. Ma vado ad abbracciare anche valori come l'amicizia, il senso dell'aggregazione che si poi verrà evidenziato nel film ed è un film ambientato nella Bologna, nella periferia bolognese e praticamente sintetizzando un pochino la trama è la storia di un gruppo di anziani ospiti in una casa di riposo che si trovano ad avere un problema che è quello della decisione da parte della proprietaria, una contessa perfida senza scrupoli di vendere la struttura. Uno dei vecchietti diventerà il leader di tutti, l'interpretato da Rino Banfi e chiederà aiuto al figlio malavitoso che non vede da 20 anni e qui ci sarà anche una riconciliazione. Il figlio malavitoso riuscirà praticamente a far succedere tante situazioni nell'ambito della struttura fino al punto di risolvere poi il problema creatosi dalla decisione della proprietaria. Abbiamo citato Rino Banfi ma non solo. Lino Banfi, Greg, Andrea Roncato, Pippo Santunastaso, un attore storico, commedie con Adriano Cerentano e Chiara Sani che oltre ad essere il regista è anche uno dei protagonisti e Massimo Fratelloni nel ruolo, spoileriamo un pochino il mio ruolo, di un agente di polizia che conduce delle indagini con il commissario in merito a tutto ciò che succederà nell'ambito della struttura. Ricordiamo anche per i telespettatori pesaresi ma anche marchigiani dove si potrà vedere il film e anche gli eventi collaterali di presentazione a questo film. Sì, allora il film potrà essere visto in tutte le multisale Giometti Cinema delle Marche e anche del Miglior Magna ma in particolare ci sarà un evento qui a Pesero lunedì 9 maggio alla multisala Giometti vicino al Cono di Perossini con la presenza della regista e degli attori. Quindi siete tutti invitati veramente di cuore.